Buona domenica, prima edizione del nostro tv giornale, tv giornale di Telestense che anche oggi si occuperà di diverse notizie, intanto gli aggiornamenti legati ai casi covid ma anche un monito che arriva dall'assessore regionale Donini che dice i casi sono in aumento soprattutto tra i più giovani, parleremo anche dell'integrazione tra le aziende sanitarie con una intervista alla dottoressa Paola Bardasi e poi ancora ci occuperemo di sport sia delle novità della regione appunto sul pubblico che potrà essere presente alle competizioni sportive ma anche sulle ipotesi di quelle che potrebbe essere la formazione della SPAL appunto al suo debutto il prossimo mese in serie B. Ci occuperemo anche di teatro con il Tenda Summer School che ieri sera tra l'altro ha portato in scena uno spettacolo al De Micheli di Copparo. Cominciamo però subito proprio con una notizia luttuosa legata al teatro perché il mondo dello spettacolo e della cultura saluta questa mattina Franca Valeri, la celebratrice è morta all'età di 100 anni a pochi giorni dal suo compleanno festeggiato lo ricordiamo lo scorso 31 luglio. Come riportano fonti di stampa si è spenta questa mattina alle 7.40 nella sua casa di Roma circondata dall'affetto dei familiari. Protagonista indiscussa nel mondo del teatro, del cinema e della televisione, Franca Valeri si era esibita anche nel nostro territorio sia in città che in provincia. Tra le altre nel 2013 aveva portato in scena al teatro Tenda Palaburgati di Cento, a meno di un anno peraltro dal sisma, la commedia non è tutto risolto. Al teatro comunale di Ferrara invece era arrivata per la prima volta nel 1971 mentre l'ultima volta si era esibita nel 2004 con la vedova Socrate. E come dicevamo poco fa parliamo adesso anche di coronavirus. Purtroppo si registrano due nuovi decessi in Emilia-Romagna in seguito all'emergenza Covid e intanto interviene l'assessore regionale alla sanità Donini che dice i focolai che abbiamo sul territorio sono prevalentemente dovuti a ragazzi giovani che tornano dalle vacanze all'estero nelle quali probabilmente non hanno avuto le precauzioni dovute o non erano in contesti in cui le precauzioni erano applicate. Ma per i dettagli vediamo il servizio. Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 30.052 casi di positività, 44 in più rispetto a venerdì di cui 30 sintomatici individuati nell'ambito dell'attività di contact tracing e screening regionali e 14 sintomatici. Purtroppo si registrano due nuovi decessi, uno in provincia di Bologna, l'altro nel Reggiano. Il numero totale sale dunque a 4.294. Per quanto riguarda l'andamento dei contagi, l'assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini ha sottolineato che in Europa viviamo una situazione drammatica. In Italia i casi sono aumentati in modo considerevole. In Emilia-Romagna stiamo ancora riuscendo ad esercitare l'azione di contact tracing grazie alla quale i positivi vengono scoperti nell'85% dei casi già in isolamento. Ma oggi voglio fare un appello. I focolai che abbiamo sul territorio, spiega l'assessore, sono prevalentemente dovuti a ragazzi giovani che tornano dalle vacanze all'estero, nelle quali probabilmente non hanno avuto le precauzioni dovute o non erano in contesti in cui le precauzioni erano applicate. Per questo abbiamo focolai anche all'interno della nostra regione che stiamo ovviamente circoscrivendo. Perciò è importante ricordare, conclude Donini, che sia in Italia che all'estero si deve mantenere il distanziamento o dove non è possibile serve l'uso rigoroso della mascherina. Intanto nel ferrarese non si registrano nuovi casi di positività che restano a quota 1099. E adesso invece alcune notizie di cronaca. Partiamo da quanto è successo nella tarda mattinata di ieri a Mesola quando il personale del locale comando stazione Carabinieri ha dato esecuzione al provvedimento di sostituzione della misura del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione con quella degli arresti domiciliari emesso nel mese di agosto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo traendo in arresto un messinese che appunto è residente in provincia di Ferrara esattamente a Mesola nato nel 1979 già noto alle forze dell'ordine. L'uomo al termine della formalità di rito è stato condotto presso proprio domicilio dove doveva scontare la condanna. Intanto sempre ieri ma alle 22 al Lido di Spina i Carabinieri di Comacchio sono intervenuti su richiesta di un addetto alla vigilanza di un noto stabilimento del posto il quale aveva fermato quattro ragazze di cui due minorenni che avevano tentato di entrare presso lo stabilimento dove era in atto una serata musicale esibendo documenti palesemente falsificati. All'arrivo dei militari le due ragazze minorenni hanno esibito due carte d'identità appunto contraffatte loro prestate dalle due amiche maggiorenni sulle quali avevano posto la propria fotografia. Per tali motivi le due minorenni entrambe 17 anni e le due maggiorenni entrambe 20 anni sono state deferite in stato di libertà alle competenti procure della Repubblica per minori di Bologna ed ordinarie di Ferrara per i reati di concorso in falsificazione di documento di identità. I due documenti sono stati sottoposti sequestro e due giovani minorenni sono state affidate ai genitori contattati e fatti giungere sul posto. Passiamo ad un'altra notizia di Cronaca ma questa volta arriva dalla Polizia, proseguono i servizi di ordine e sicurezza pubblica disporsi dal signor prefetto e pianificati dal questore nell'area cittadina GAD considerata più sensibile a fenomeni criminali legati in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti, all'immigrazione clandestina e reati in genere attraverso l'impiego di personale dipendente e con l'ausilio della Polizia Municipale. Sono state 203 le persone identificate ai risultati regolari, 65 i veicoli controllati e 20 gli esercizi commerciali regolari. Nel corso della mattinata sono stati controllati due individui che sono risultati sprovvisti di documenti di identificazione, entrambi accompagnati in questura per l'esplitamento delle formalità diritto, sono stati identificati rispettivamente in un cittadino tunisino del 97 e un nigeriano del 93 sprovvisti di qualsiasi titolo autorizzatorio a permanere nel paese. Agli stessi è stato notificato il decreto di espulsione e contestuale ordine del questore a lasciare il nostro territorio. Adesso invece parliamo di sanità, sta prendendo via la collaborazione tra l'azienda ospedaliera universitaria e l'azienda USL di Ferrara per l'integrazione di cui si parla già da tempo. Durante la conferenza di presentazione della nuova direzione generale del Sant'Anna ne abbiamo parlato con la direttrice generale Paola Bardasi e la direttrice amministrativa Maria Gamberini. Sentiamo dunque quello che hanno dichiarato. L'integrazione sulla quale stiamo lavorando parte già da una base che ci hanno lasciato le direzioni che ci hanno preceduto. Dobbiamo consolidare queste forme di integrazione tra servizi, cogliendo gli aspetti positivi che hanno funzionato nelle precedenti gestioni e migliorando e integrando le parti che non sono state completamente integrate. Parlo dei percorsi ospedale e territorio che dovranno entrare a far parte dei dipartimenti ospedalieri integrati che già ci sono, di un funzionamento più efficace dei servizi tecnico-amministrativi e delle piattaforme di supporto. Su tutti questi aspetti i colleghi, direttori sanitari e amministrativi hanno già tirato fuori le documentazioni per lavorare. Poi dobbiamo lavorare con i professionisti e ciascuna l'ha già fatto nelle proprie aziende e abbiamo già in calendario un incontro congiunto a metà settembre. Altra cosa importante da fare insieme all'azienda sanitaria locale sarà un piano di fabbisogno del personale legato alle infrastrutture, legato all'attività, legato al ritorno alla normalità e anche questo è previsto per il mese di settembre in cui rinforzare le squadre sia dell'azienda ospedaliera che dell'azienda territoriale. Dal punto di vista del bilancio, al di là dei tecnicismi dei numeri freddi, le prime stime dicono che il Covid è costato a questo ospedale una ventina di milioni, una ventina di milioni in termini di acquisti non tanto e non solo di farmaci, di reagenti, di materiale da laboratorio, come diceva il direttore siamo uno dei laboratori di riferimento per i tamponi, ma anche e soprattutto di personale sia assunto sia con contratti atipici. E parliamo adesso di lavoro perché CGL e Cislewil hanno tenuto venerdì un incontro con i lavoratori della sede ferrarese di Celanese per fare il punto della situazione in vista della annunciata chiusura. Vediamo quello che è emerso. Si è tenuta l'assemblea dei lavoratori dello stabilimento celanese di Via Marconi alla presenza di CGL e Cislewil per fare il punto sull'intenzione dell'azienda di chiudere la sede ferrarese dopo l'incontro tenutosi a Forlì mercoledì 5 agosto. I segretari generali hanno così spiegato attraverso un video diffuso dalla CGL l'esito dello sciopero assemblea. Abbiamo riferito dell'incontro che si è tenuto a Forlì nella giornata di mercoledì scorso. Il sindacato ha dichiarato in maniera unanime di rifiutare questa proposta, di avviare immediatamente un confronto con l'azienda presso il tavolo di crisi della regione Emilia-Romagna. L'obiettivo è quello di salvaguardare il futuro anche del gruppo all'interno di tutti gli stabilimenti per cui a partire da Forlì che dovrebbe divenire un centro di eccellenza e mantenere l'integrazione presso lo stabilimento di Ferrara dei due siti di Marconi e Donegani. Sarà un'avvertenza molto difficile quella di Celanese a Ferrara perché ci troviamo di fronte a una multinazionale molto determinata che persegue una finalità strettamente finanziaria con dei risultati immediati per gli azionisti. Oggi abbiamo spiegato ai lavoratori che questa è una strategia da combattere. Cercheremo insieme alla regione Emilia-Romagna tutte le soluzioni per garantire un futuro occupazionale a queste persone e a questi lavoratori. Oggi abbiamo incontrato i lavoratori per la seconda volta nel giro di pochi giorni su questa avvertenza che si annuncia comunque calda e complicata ed è ovvio che unitariamente grazie anche al sostegno delle strutture territoriali, confederali e regionali di categoria stiamo provando a provare e a imbastire sicuramente il tavolo regionale che è il primo passo che faremo a livello ufficiale. Questo i lavoratori lo sanno e quindi il mandato è pieno anche per quello perché comunque niente si lascerà di intentato sul tavolo. Continuiamo così unitariamente per tutti i lavoratori della Celanese. E adesso invece parliamo di spettacoli perché si è tenuto venerdì sera presso i giardini del Grattacielo un concerto con la musica di Vivaldi con l'obiettivo di riqualificare l'area con cultura e sicurezza. Il protagonista è l'orchestra Città di Ferrara mentre l'attore Stefano Muroni ha recitato i sonetti delle quattro stagioni. La serata è stata resa possibile dalla collaborazione tra Questura, Comune di Ferrara, Orchestra Città di Ferrara, Teatro Comunale e diverse associazioni. La serata è stata introdotta dal vice sindaco Nicola Lodi che ha anticipato dettagli sui lavori che da settembre prenderanno il via in zona GAT e che abbiamo riassunto in questo servizio. Sentiamo. Il cuore della città in un parco incredibile, pieno di piante, con una centralità, qui c'è la stazione, abbiamo Viale Cavour, voi dovreste vedere da questa immagine si vede Viale Cavour che è stupenda. E a settembre inizieranno dei lavori importanti, permettetemi di ringraziare il sindaco Alan Fardi, tutta la giunta. Abbiamo stanziato anche il periodo di lockdown. Una delle spese che non abbiamo assolutamente tagliato sono i 600.000 euro per questo giardino. 600.000 euro che andranno a rivalutare quest'area, a rivalutare le abitazioni, ma soprattutto a dare tranquillità e serenità a questa zona che ne ha bisogno. Da circa 4-5 mesi vedete la presenza incessante H24 di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, finanza e polizia locale. Vorrei fare un applauso a tutti loro perché da alcuni mesi, l'avete visto, stanno cercando di riportare in una zona abbastanza complicata la serenità che tutti noi vogliamo. Stiamo cercando solo la normalità, non cerchiamo altro, non vogliamo fare chissà che cosa. Vogliamo portare in questo parco bambini, anziani e famiglie. E c'è solo una maniera, riportando la legalità e riqualificando quest'area. Qui alla vostra destra verrà fatta tutta un'area sportiva. Qua verranno campi da calcetto, da basket, da pallamano. Verrà un'area polisportiva dove si faranno anche incontri e combattimenti, box e quant'altro. Qui dove siete voi rimarrà un'area destinata ai concerti, alla musica, alle attività giovanili. Invece qui alla mia destra verrà il più grande parco di giostre per bambini. Stiamo verificando e andremo proprio in questi giorni in questa importante azienda. Verrà riempita di giostrine per bambini. E poi più in là ci saranno due aule didattiche. E adesso invece, sempre rimanendo nell'ambito degli spettacoli, parliamo del weekend conclusivo del Tenda Summer School. Ieri sera è andato in scena uno spettacolo al De Micheli di Copparo. Oggi è l'ultima giornata, ma intanto rivediamo quello che è successo ieri durante la sesta giornata di questo appuntamento. Benvenuti al sesto giorno del Tenda Summer School, il primo campus internazionale di commedia dell'arte e spettacolo contemporaneo. Oggi è una giornata veramente molto importante per i ragazzi, poiché questa sera si esibiranno al Teatro dei Micheli di Copparo alle ore 9 con uno spettacolo, mettendo in scena tutto ciò che hanno preparato e studiato con i docenti durante la settimana. Ma nel frattempo andiamo a vedere come procede la loro giornata. Siamo qui con Joe Gallagher, il nostro docente internazionale proveniente dalla Scozia, esperto in teatro shakespeariano. Come stai vivendo il Tenda Summer School? Come vedi questa edizione particolare? Quest'anno è un'esperienza diversa per te la virus. In quest'anno sono l'unico straniero, ma mi manca la dimensione internazionale molto. Devo parlare più in italiano, è molto difficile per me. Tu esattamente che cosa insegni ai ragazzi qui al Tenda Summer School? insegno un collegamento tra una traduzione italiana, commedia dell'arte, e una traduzione classica inglese di Shakespeare. Molti collegamenti tra i personaggi e le storie. Quest'anno vedo 12 semennotte, è l'unico quarto, tanto trambusto per nulla, bisogno di un'altra di mezz'estate e altri. È un lavoro buono con questi studenti, tutto il mento, il mento italiani. Siamo qui con Dalia da Milano. Ciao Dalia. Volevo chiederti, che consiglio ti sentiresti di dare ai ragazzi che stanno guardando questo video e che fossero magari interessati a venire al Tenda Summer School l'anno prossimo? Senza dubbio quello di buttarsi, perché il teatro in generale è un'arte all'interno della quale si scoprono le proprie, diciamo, insicurezze e le si buttano via. Di conseguenza è una cosa estremamente utile per le persone magari timide che cercano di stare sempre in disparte per una propria scelta. Tenda Summer School intensifica il teatro in una settimana e ti mette a contatto diretto con tante persone da tutte le parti d'Italia e nelle altre edizioni del mondo. E di conseguenza è forse così intenso che riesce a farti capire in maniera molto più forte quelle che sono appunto le tue insicurezze, ti riesce a mettere in gioco con più forza. E dal sesto giorno del Tenda Summer School è tutto. Noi vi aspettiamo domani, sempre su Teleestens e sempre alla stessa ora, con il servizio finale di questa straordinaria sesta edizione del Tenda Summer School. Buona serata. Ed era ovviamente al servizio di ieri, per cui lo vedrete questa sera nell'edizione delle 19.30. Adesso però parliamo di calcio. La SPAL, come sapete, si sta preparando già per il nuovo campionato che la vedrà tornare in Serie B. Ma quale potrebbe essere la formazione per la prossima stagione? Sentiamo le ipotesi di Alessandro Sovrani. Giochiamo un po' come si fa tutti in questo periodo ad un'ipotetica formazione, considerando quella che è la situazione attuale e anche con qualche inserimento. Il portiere potrebbe essere Minelli. Attualmente al Padova si dice che la SPAL ha bussato, alla porta biancoscudata, per potersi avvalere del suo apporto in difesa. Parlando di un 4-3, perché questo dovrebbe essere il modulo, quello che di norma viene applicato da Pasquale Marino. Dickman sul settore destino, rientra ad Alchievo dopo una buona stagione. Vicarie, attualmente Salamone i centrali, con un altro agnuenti. Kragol sulla sinistra, Kragol che Marino ha avuto a Frosinone. Anche qui ci aspettiamo anche qualche altro arrivo di giocatori che hanno lavorato con il tecnico siciliano. Kragol è un giocatore che tra l'altro garantisce anche un ottimo apporto in fase realizzativa con il suo sinistro considerato dinamite. Quest'anno è stato reduce da un'ottima stagione. Nelle file delle Beneventi. I tre centrocampisti potrebbero essere Murgia, Esposito che rientrerà dal Chievo-Verona ma servirebbe anche un giocatore più esperto per affiancarlo. E Missioli che attualmente è ancora a carico della società bianco-azzura. Tridente d'attacco con D'Alessandro Paloschi che rientrerà dal Cagliari anche se la Spal vorrebbe trovare un'alternativa ma si dovrà trovare anche la possibilità eventualmente di cedere l'ex attaccante dell'Atalanta e di Francesco. Diciamo che abbiamo un po' scherzato non scordandoci che ci sono tanti altri giocatori a partire da strepezza ma potrebbe anche essere abbastanza vicina. Questa è la formazione su cui Marino potrebbe partire nel prossimo campionato. Si avvicinano comunque i momenti decisivi perché attorno al 18-19 verrà richiamata tutta la squadra, tutto il gruppo ma ci aspettiamo. Portegirivoli sia in entrata che in uscita e per chiudere ricordiamo che in questa settimana la Spal ha ricevuto una bellissima notizia, quella della promozione o riposcaggio chiamiamolo come vogliamo, della primavera nel massimo campionato. Un grande impegno attende la dirigenza bianco-azzura a partire dal responsabile del settore Ruggero Ludegnani perché ricordiamoci la stagione in primavera uno non è certamente uno scherzo. Arriveranno tutte le squadre della massima categoria con grandi e giovani emergenti per cui si dovrà tanto lavorare anche per rinforzare l'organico. Il compito aspetterà Giuseppe Scurto che è stato individuato come il tecnico che è succeduto a Fiasconi. E con questo servizio siamo in chiusura, vi ricordo come sempre il nostro sito internet telestenser.it, i nostri canali social, ci troviamo su Facebook, su Twitter, su YouTube e anche su Instagram. Grazie per averci seguito, a tutti gli auguri di un buon proseguimento di giornata e appuntamento rinnovato alle 19.30. Grazie per aver guardato, a tutti i nostri canali social, ci troviamo